Buonasera, grazie per essere intervenuti qui a Falerna, siamo nella fase di chiusura dell'estate e noi dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale, anche se siamo subentrati a fine maggio, però abbiamo portato avanti i progetti che siamo riusciti a fare in due mesi. Grazie ai volontari del nostro comune, alle associazioni tipo il GEF, abbiamo fatto queste serate e dobbiamo dare un ringraziamento al nostro sindaco che ci ha dato tanto animo e cuore di fare bene per questo paese. Speriamo che il prossimo anno potremo organizzare una bella estate programmata nei mesi prossimi, già per il 2020. Dobbiamo ringraziare il complesso di questa sera, Angela Bianco e la tour, poi qua abbiamo il nostro presidente del GEF, gruppo eventi Falerna che ci ha tenuto tutta l'estate con varie serate e speriamo che il prossimo anno, ripeto, riorganizziamo tutto il DAFAS molto prima per programmare meglio l'estate del 2020. Grazie a tutti e ringrazio di nuovo l'amministrazione comunale di Falerna. Grazie a tutti e ringrazio di nuovo l'amministrazione comunale di Falerna. Grazie a tutti e ringrazio di Falerna. Grazie a tutti. Grazie a tutti.